Sono i nostri palloni. Questo è un pallone da basket, che ce l'ho comprato 5 anni fa. E' cane, via! Scusate per il cane. Ce l'ho comprato 5 anni fa. Questo è un normale total 90 che l'ho trovato per strada. Poi questo è il pallone della Champions League della finale di Wembley. E questo qua è un antico pallone etrusco del 1990. E su qui, se riuscite a leggere, c'è scritto 1990 ed è Adidas. Finiamo con il nostro video e alla prossima.